Nell'aggiornamento medico è una settimana in cui si seguono tre partite, la cosa più importante è cercare di recuperare dalla fatica e dai vari acciacchi, quindi sia ieri che oggi l'obiettivo è stato su tutti sostanzialmente cercare di sfruttare al meglio le capacità di recupero che possiamo utilizzare sull'atleta. Alcune problematiche tuttavia persistono nel senso che Pizarro, che non era in perfette condizioni per il problema di un mal di schiena, la lombosciatologia che lo condiziona ancora, ha solo svolto un allenamento differenziato fino adesso, quindi il problema persiste, risolveremo ovviamente domani con l'ultima sessione di allenamento e faremo una valutazione in extremis. Per quanto riguarda Aquilani, gli accertamenti hanno escluso lesioni, la sollicitazione del collaterale è stata veramente minima, anche lui ovviamente abbiamo sfruttato un allenamento differenziato, valuteremo domani al termine dell'allenamento quale sarà la risposta. Infine l'arrondo ha subito una ferita importante al collo del piede, è molto dolente, anche in questo caso sono state escluse complicanze osse, tuttavia il dolore su una struttura che poi deve essere compressa dalla scarpetta da calcio è ancora importante, quindi anche lui è tra le persone che sono in forse. Hanno invece recuperato e smaltito la fatica agli altri giocatori, compreso anche la lieve sollicitazione di Iovetrici sulla caviglia, non dè sta preoccupazione. Rimane ancora nel programma differenziato, quello che avevamo impostato da decine di giorni, si soccò per il problema di sovraccarico al ginocchio, infatti eseguirà una terapia specifica oggi stesso, contiamo di recuperarlo per la prossima settimana. Per quanto riguarda Rossi, si sta regolarmente allenando, manca ovviamente ancora il ritmo partita, quindi la valutazione più che medica a questo punto è atletica, dal punto di vista della stabilità del ginocchio e della ripresa atletica siamo molto soddisfatti, comunque ancora ovviamente manca l'abituarsi al ritmo gara.